La triplice garanzia te la descriverò nel dettaglio quando ci vedremo, ma in sostanza è, primo, i costi certi, quindi il nostro preventivo sarà sempre definitivo, non ci sarà nessun'altra sorpresa. La seconda garanzia è un controllo gratuito dentro 24 mesi, quindi a lavoro finito, pagato, io vengo a vedere che sia ancora tutto a posto come il primo giorno che te l'abbiamo montato. E la terza garanzia è una garanzia di 10 anni sul lavoro di posa in opera, sul nostro sistema di posa ti garantiamo per 10 anni che non entra acqua, infiltrazioni, non entra nulla. Se dovesse accadere ritorniamo gratuitamente a mettere a posto tutto come doveva essere.